Tifo Cucione è stato il primo marcatore in stagione quest'anno, nei risultati sotto la curva te immaginavi questa festa? Beh, insomma era l'obiettivo di tutti e averlo raggiunto è sicuramente un motivo d'orgoglio per tutti e per me ancora di più. Hai giocato in tante piazze, Mantova forse però è quella più importante in cui hai giocato, cosa significa per te vincere qui a Mantova? E' un'emozione incredibile, ti dico la verità, ripeto era un obiettivo dell'inizio anno, vincere non è mai facile e farlo a casa è ancora più bello ed è stato sicuramente molto molto più stimolante, una piazza sicuramente vera che con la Serie D non c'entrava assolutamente nulla. Una Serie C sofferta in tutti i sensi? Sì, sofferta in tutti i sensi, perché c'è stato il Covid che ci ha provato a metterci i bastoni fra le ruote, però il nostro gruppo è stato più forte di tutto. L'anno prossimo, Guccione, dove ci caratterà? A breve mi incontrerò con la società e la mia priorità è sempre stata il Mantova e stanno arrivando tante richieste ma finché non ascolto il Mantova sicuramente non prenderò in considerazione nulla.